Natale 2018 Il mistero si infittisce Scusa, ma dentro al pacco cosa c'è? Un pacco, un pacco, un pacco Giallo, giallo, giallo Proveniente da Forlì, è stato recapitato in dono all'ombra, direttamente alla Queen Elizabeth Intervistata, ritiene che al suo interno ci possano essere dei segreti inviolabili Anche il Dalai Lama, che ha ricevuto in dono il pacco, ha cercato con i suoi poteri di scovarne il contenuto misterioso Un tentativo maldestro Voci incontrollate ritengono che lo stesso contenga il segreto di Loretta Segreto di Loretta Segreto di Loretta Il pacco, portato in Miami da un noto imprenditore locale, è stato inseguito al fine di violarne il segreto Ma ad oggi Ma ad oggi Ma ad oggi Non ci risulta sia stato l'invenuto C'è una quinta dimensione Quinta dimensione Quinta dimensione E che l'uomo può immaginare Senza limiti Senza tempo Una zona intermedia Una zona intermedia Una zona intermedia Una zona intermedia Tra ciò che si pensa E ciò che si può ottenere Inutile cercare oggi di scovare il mistero del pacco Il mistero del pacco Il mistero del pacco Il mistero del pacco Una sola persona in grado oggi Di svelarne il suo contenuto 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 Il mistero del pacco 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 Il mistero del pacco